Rivoluzione alla città della salute di Torino, sono ben 11 le nuove nomine di direttori di struttura, quelli che una volta si chiamavano i primari e ora si chiamano direttori di struttura. Abbiamo l'occasione di parlarne con chi ha fatto queste nomine, che è il direttore generale Giovanni Lavalle, che ci può spiegare le ragioni di questo cambiamento. Siamo andati avanti con gli interprocedurali dei concorsi di tutte le strutture complesse che erano vacanti di primario, quindi ha detto lei giustamente bene, direttore complesse una volta si chiamavano primari, strutture che siano liberate per l'acquiescenza dei titolari, quindi figure storiche che hanno fatto anche la storia di città della salute nei vari presidi dove erano allocati. La necessità di andare a coprire velocemente i posti apicali è proprio per dare garanzia di stabilità alle strutture, dove anche se ci sono stati facenti funzioni che hanno fatto un eccellente lavoro, il direttore è poi consolidato da stabilità alla struttura, sia in termini organizzativi sia soprattutto in termini di visione e di sviluppo organizzativo. Uno degli obiettivi di queste nomine avete dichiarato essere quello delle liste d'attesa, come può facilitare quindi questo nuovo organigramma, questo obiettivo? Beh, una visione nuova, una visione nuova di chi motivato insomma in un nuovo ruolo possa vedere anche con occhi nuovi la propria organizzazione e cercare di capire come migliorarla all'interno efficientandola e quindi anche garantire non soltanto qualità di prestazione, che è quella sappiamo già che è molto eccellente grazie ai nostri professionisti, ma anche la quantità di prestazioni che possono essere erogate. Quindi una revisione interna, con un'attenzione fortissima al paziente e anche alle liste d'attesa, che oggi sono un problema non soltanto di oggi, un problema annoso da sempre, però sul quale bisogna lavorare. Quindi le energie devono essere distribuite. A ciascuno di loro ho dato insomma uno dei primi mandati proprio questo, quindi liste d'attesa, ma soprattutto visione uno sguardo organizzativo verso il futuro, verso il futuro che vuol dire per noi anche Parco della Salute.